La Nave dei Levrosi Visto? Dietro ogni capitano c'è una ciurba Error! Scusi, alcuni di voi sono più pronti dei cetrioli di mare Altri sono più simili a uno sgabello o a un attaccapalli E alcuni sono pesci con un cappello Pissa la bandiera! Quella classica, signore O quella macabra? Super macabra, facciamogli tremare l'interiora Pirati, briganti da strapazzo Sono il capitano dei pirati e sono qui Nave fantasma Uuuuuh Uuuuuh Grazie a tutti.